Ogni anno un po' ormai è una tradizione, quello di coinvolgere tutti, dal Papa al Presidente della Repubblica e fino anche ai tanti privati, come abbiamo potuto constatare anche per questa circostanza, ma sempre con la preoccupazione di andare incontro alle esigenze, ai problemi dei più malati dei malati, perché i bambini, soprattutto i bambini appena nati che nascono in difficoltà, hanno bisogno di delle cure del tutto speciali. E allora si va incontro con l'autombulanza che abbiamo comprato, con la banca del latte materno, quest'anno anche per comprare degli ecografi, delle acullette, eccetera. Insomma, ogni volta si cerca di rispondere a qualche esigenza.